Allora, buongiorno. Come va? Dove sei in questo momento? Io vivo a Milano, in zona Brera-Garibaldi. Una volta sarebbe stato solo Garibaldi. Per me ha detto che Milano è più grande. Certo, certo. Come sta vivendo questa situazione un po' complicata? In casa immagino. Beh, quello assolutamente. Io fino a quando non hanno chiuso... Identità Golosa è anche un ristorante Spazio Eventi in Via Romagnosi. Oltre a che un congresso, una guida, un sito... Infatti mi è venuto in mente di organizzare la diretta con lei perché l'ho vista attivissimo sui social, ho visto diverse sue dirette interessanti con altri personaggi. Io poi studio Scienze Gastronomiche a Pollenzo. E quindi diciamo mi interessava, ho già fatto qualche giorno fa un'intervista con Gravner e mi interessava insomma inquadrare varie personalità del mondo della gastronomia e in particolare lei mi interessava un po' sapere, perché comunque diciamo si parla spesso di giornalismo gastronomico, anche critica, però secondo me non si coglie bene cosa comporta, cosa significa. Quindi mi faceva piacere se lei un po' ripercorresse quello che è stato il suo percorso per arrivare un po' dove è ora e quali sono state le tappe più importanti, insomma. Quanto tempo abbiamo in tutto, scusa? Il live può durare fino a un'ora, per cui non... Vabbè adesso, sì sì ok, no mi preoccupo sì per chi ascolta, non addormentarli. No, di base è questo, io ho 65 anni, sono nato a Milano nel marzo del 55, e vabbè questo è il dato di fatto insomma, e mi sento molto milanese. Voi di dove siete voi tre? Io sono di Roma e anche un altro è mio socio, mentre l'altro è di Milano, ci siamo però conosciuti tutti a Milano per, diciamo così è nata la... Sì sì la cosa, il progetto è tutto. No insomma, sono molto milanese perché Milano ha un grandissimo vantaggio, però lo apprezzi solo se ci nasci, se no è ben poco italiano. Cioè siamo l'unica città italiana che ama il mondo, noi siamo proiettati sul mondo, siamo curiosi, vogliamo conoscere, andiamo in giro. Mentre se tu vai in tutte le altre città c'è una retorica, un attaccamento morboso a tutto quello che è il campanile locale, per cui adesso tu arrivi da Roma, tu vai a Roma, un giorno critichi la carbonara, ti massacrano perché è arrivato quello il polentone dalle nebbie del nord e così via. Torna a casa a mangiare polenta e salame. Vai a Napoli, non ti piace la pizza, è offeso Sofia Loren, il sinistro di Maradona e il Vesuvio e così via insomma. Cioè tutte le città italiane, da una parte per fortuna e dall'altra purtroppo, sono attaccate visceralmente alle loro ricette, per culture, per radici, per legami alle generazioni che li hanno preceduti e non nelle zie, che è bellissimo, però ti toglie una certa... Apertura. Sì, un'apertura, una lucidità di capire, insomma, se tu vieni a Milano non ti piace il risotto alla milanese di qualcuno, a parte che è difficile trovare, è più facile mangiare il sushi a Milano adesso, ma è una questione, fa tre che lo scrivi e il cuoco che te l'ha fatto. Cioè non ci sarà mai nessuno che verrà a scriverti nei social, ma cosa sei venuto da Roma, mangia la tua pasta, dirci che il risotto si fa così e cos'ha, no? E questo è un grandissimo vantaggio di noi milanesi, che poi dopo siamo sbruffoni, eccetera, eccetera, poi dopo fighetta e così via. Per cui non è che è tutto rosa e fiori, cioè sono sempre due medaglie, insomma. Però insomma, questa cosa qua mi ha sempre agevolato perché ho coltivato così la curiosità verso questo. Io avrei voluto fare da ragazzo il cuoco, però a 20... non lo so, insomma, ho sempre cucinato a casa, cose così. Però il grosso problema è che io non avevo nessuna base, ho studiato lo scientifico, non mi sono mai laureato in lettere, non avevo nessuna base tecnica sulla cucina, non so fare una maionese, non so fare un fondo bruno, non mi è interessato. E così. E la stessa cosa con la fotografia, fra virgolette ho un senso della fotografia. Però, siccome adesso tu avrai 25 anni, per cui non di più, per me 25 anni vuol dire veramente niente, cioè bambini. Però la stessa cosa, cioè tu una volta, quando la tua età facevi la fotografia, dovevi saper smontare una Nikon, una Leica, dovevi avere una camera oscura in casa tua, dovevi sapere la luce senza un esposimetro, che non era incorporato nelle macchine fotografiche allora. E così. E la stessa cosa su tante cose, insomma. C'era tutta una parte tecnologica... Sì, sì, c'era tutta una serie di cose per cui volevo fare anche la fotografia. Mio padre era amico del padre di Oliviero Toscani, che è stato il primo fotoreporter assunto come giornalista al Corriere. E insomma, si parlavano così, ma dice guarda, se tuo figlio, che ero io, non ha una camera oscura, non ha fatto mai tecnica, perché mio padre era uno studio, ma lo vendete, io ero proprio piccolo, è inutile che vada a fare delle scuole di fotografie, perché proprio il talento non basta. Una cosa che adesso non si capisce molto, perché la tecnologia ti aiuta da pazzi, è che il talento conta solo per fare il primo passo. Poi devi applicarti in maniera folle, veramente impegnarti, per sapere tutto quello che c'è intorno. Non basta avere il talento. Il talento, non so se tu segui il calcio, ma io ho fatto scuoco per tantissimi anni, ho visto sportivi nello sci, nel calcio e così via, che avevano a vent'anni dei talenti pazzeschi. Poi non avevano la testa per fare i professionisti, per cui si innamoravano, per cui soprattutto a Roma la vita, tutte queste robe carine, belle e così via, e non portavano a casa nulla. Quando vai a vedere Zanetti, ex capitano dell'Inter, che è andato fino ai 40 anni, è uno che si allenò anche il giorno del matrimonio, che uno dice è stato anche un po' eccessivo, però lui fino a 40 anni è entrato in uno stadio, entrando in campo e non andando in tribuna dirigente, diciamo così. Vabbè, questo adesso sintetizzando. Io avrei voluto fare, mi sono trovato, a intorno ai 21 anni penso, a poter scegliere se fare il pelapatati in uno stellato di Milano che non esiste più, o andare a collaborare a Corriere della Sera sullo sport. E una cosa che non devi mai fare, tu e tutti quelli che ci ascoltano, è chiedere l'età dei cuochi. I cuochi hanno sempre meno anni di quelli che dimostrano, perché è un mestiere pazzesco. Intanto lo fa in piedi e non siamo cavalli, per cui siamo abituati anche a sederci, a dormire in un letto e così via. Per cui ginocchia che vanno a pezzi, problemi alle vene, circolazione nelle gambe, sono cose che nessuno scrive, però sono cose pazzesche. Lo stress è perché se tu all'una e mezzo o due non hai il ristorante pieno, non è che lo riempie le quattro del pomeriggio, è buttato via tutto. Ecco, ciao Cristiana, Lauro, eccezionale critica del vino. E poi lo stress di, non so, hai capito, lavori con la moglie, la moglie sorride a un cuoco, tu sorridi a una cameriera. Tutte queste situazioni qua generano gelosie, stress, alcolismo e peggio ancora. Per cui il lavoro del ristorante è pazzesco e a 50 anni tantissimi di loro dimostrano 60-70, ma veramente. Adesso è un po' migliorato perché c'è l'induzione, c'è la bassa temperatura, per cui l'usura fisica di lavorare in cucina con i fuochi, che proprio ti ardono a livello dello stomaco, della pancia, e ti bruciano dentro, c'è meno. Nei grandi ristoranti c'è meno, adesso hanno tutti delle apparecatture pazzesche, però lo stress è rimasto e in più c'è una critica molto più diffusa. E quindi quando è che più hai iniziato un po' a scrivere di gastronomia? E quella cosa lì, in pratica io ho deciso di collaborare al Corriere della Sera e ripromettendomi di entrare in un ristorante da critico, insomma, è la parte per mangiare. Per cui nel gennaio dell'80 mi assunse il giornale, direttore Montanelli allora, per cui lasciai la collaborazione al Corriere, eccetera, eccetera, e ci sono rimasto fino al 2011, di questi giorni. Perché ormai ho inventato l'identità golosa, era diventata troppo, troppo importante. Però una cosa, ti precedo se vuoi farmi la domanda, che è fondamentale per tutti quelli che vogliono fare qualcosa nella vita e se lo chiedono, è che il momento che tu hai un'idea, dell'idea che ti appassiona e così via, devi perseguirla come un talebano, cioè proprio, capito, come un leninista alla rivoluzione. Invece se stai lì a guardarti intorno, aspettiamo, vediamo e così via. Invece io ho avuto sempre, intanto lo sport mi piaceva, per cui non è che facevo una cosa che non mi piaceva. Ma lo sport, adesso è diverso perché esiste internet e tutto, ma tanti giornalisti, per dire Gianni Mura è un passo da poco, scrivono di cucina perché lo sport è l'unico settore di un, era, adesso sono tutti i suoi internet, settore di un giornale che è bravo o non bravo, ciao Davide, è tutto, bravo o non bravo che tu fossi, dovevi seguire le squadre o lo sci, per lo sci quando era novembre io partivo e non tornavo a Milano fino a fine marzo, c'era un po' del mondo di sci. Non so, il calcio giravi per vedere le partite e così via, insomma. E come è stato il passaggio, diciamo, dal giornalismo sportivo a quello gastronomico? E' stato molto facile, perché il grande vantaggio di quando vai in giro è che devi mangiare, cioè il giornale si paga due pranzi e una colazione al mattino, a seconda poi dell'impegno se vai in un periodo o meno, ma insomma, e allora il nove, tantissimi miei colleghi vanno a cena, andavano a pranzo, a cena, dove andavano i dirigenti, eccetera, eccetera, per, così, per saperne di più, per, insomma, per vivere il mondo professionalmente 24 ore su 24. A me questo non è mai interessato, quando finiva il mio lavoro, io cercavo il ristorante più buono della zona. Cioè, io sempre ho cercato, è uscito un libro, nell'86, sì, una cosa così, e facevo anche un po' di vela, per cui, quando fecero la Coppa America di vela, a Perf, in Australia dell'Ovest, nell'85, e l'Azzurra fu un disastro totale, insomma, comunque pubblicarono un libro alla fine, che raccontò questi sei mesi in Australia, e ci sono in due foto, in tutte e due foto, io sono in un banchetto che prende da mangiare, cioè gli altri ascoltavano i discorsi di apertura e di chiusura della campagna di Coppa America, e io invece mi staccavo dal gruppo delle persone, andavo a mangiare, quando la gente non aveva preso ancora d'assalto il buffet, insomma, io ho sempre avuto benissimo chiaro in testa, dove volevo arrivare, cioè volevo arrivare a scrivere, a occuparmi di cucina, e niente, questo, per cui lo sport mi ha permesso di, esatto, il cibo prima di tutto, leggo qua, per cui non ho mai perso tempo, ma sono tante situazioni, potremmo parlare fino a domani mattina, però, e c'è sempre una rinuncia, cioè bisogna sempre vedere, cercare di proiettarti a 30-40 anni, è chiaro che sul momento, magari c'è la ragazza dei capelli rossi di Linus, di Finerz e così via, che ti dice, stasera usciamo, e tu dici, io devo chiudere il giornale, per dire le pagine, e quella, terza volta che lo dice, la quarta esce con un altro, perché non è che sta a aspettarti, però se tu ci chiedi a questo, aspetti, se quella ti ama abbastanza, aspetti, andrei a cena a mezzanotte, però il rovescio della medaglia, è che magari se una stava con me, adesso sono sposati di verso il mondo, però, capito, magari le piaceva andare a vedere, la libera di Kitzbühel sull'Hannencam, Coppa del Mondo a gennaio, e quella era una bellissima cosa, che pochissimi potevano fare, quasi un privilegio, perché io ho sempre lavorato su cose che mi piaceva fare, e mi ritengo molto fortunato in questo. Ok, quella l'importante, diciamo. Sì, o comunque se fai una cosa devi farla bene, perché tanto farla male, tanto vale non farla. Invece c'è stata, diciamo, qualche persona, magari particolarmente rilevata, rilevante nel suo percorso, o è sempre stato molto, diciamo, sulla sua trada? Rilevanti sono stati tantissimi, per cui, nella cucina, così, a livello di giornalismo, mi ritengo un veronelliano, Gino Veronelli, così, ecco per dire. Però, un grande vantaggio mio, è che io ho sempre ragionato con la mia testa, cioè, scusa, sembra un po', è così, però non mi è mai fregato nulla delle pubbliche relazioni, di tutte queste robe qua, no? Ok. Per cui, alla fine della fiera, io faccio un mestiere, che è l'unico mestiere di quello che avevo voluto fare, cioè, gli altri erano, lasciamo stare lo sport, non avevo la testa, avevo talento, ma non avevo la testa, per gli allenamenti, ero, fare la fotografia, fare il cuoco, e non conoscevo la tecnica. invece scrivere, ho questo, scusa, mi sembra essere un po' presuntuoso, però, ho 30 anni, insomma, io vedo l'articolo in testa, vedo il testo in testa, cioè, quando andavo a fare le notturne di calcio, che a dirlo così, una volta, erano cose molto, molto pesanti, perché dovevi scrivere, a un certo punto, dettavi, e dettando, dovevi avere, una logica in mente, importante, oppure, tu vai alle Olimpiadi, o Coppa del mondo di calcio, tu entravi nelle sale stampe, le principali, non quelle, degli stadi, piuttosto di una gara secondaria di sci, cioè, c'era dentro a 1200 persone, che battevano la macchina, ti assicuro che è un rumore pazzesco, e lì, o sai, estrenarti da quello, di avere in testa tutto, ma io ho visto colleghi, adesso non ti faccio nomi, un collega famosissimo, che si firma in una prima pagina, di uno dei grandi, così, non riuscì ai tempi che furono, a mandarci un pezzo, da uno stadio di calcio, perché c'era troppo rumore, ecco, c'era un libro, sì, fa parte del mestiere, insomma, hai capito così, certo, per cui, niente, importanti però, ti posso dire, sono stati due, su tutti, uno si chiama Pietroni, Guido Pietroni, era un signore eccezionale, guarda, ti parlo di 45-50 anni fa, che aveva, lavorava in una banca, però, animava, il gruppo, per andare a sciare, per andare a sciare, a Fopolo, insomma, torno a Milano, no, e si portava dietro, i dipendenti di questa banca, la commerciale, non so cosa fosse, no, però, facendo così, lui, aveva iniziato a intrattenere, tantissimi rapporti, con lo sci minore, perché la federazione sci è a Milano, è una delle poche federazioni, che non sta a Roma, no, e, e così, per cui, a un certo punto, pensò di fare un bollettino, che poi diventano settimanale, che si chiamava Neve Sport, e usciva da, metà ottobre, insomma, quando cominciava un po' a fine ottobre, fino a fine marzo, quando chiudevano le stagioni, la finale della Coppa del Mondo, eccetera, eccetera, e lui, intorno a questa rivista qua, ci passarono tantissimi giornalisti, di Neve Sport, giusto, Davide, eccezionali, e lui, dietro la scrivania, aveva un cartello, con scritto, se hai idee, non hai problemi, e io ho sempre pensato, che figata di frase, bellissima, è vero, bisogna avere idee, e così, quando poi, nel gennaio del 2005, andò in scena la prima edizione di Identità Golose, Davide Scabin, del Combal, allora ancora Combal, non il punto zero, il Combal precedente, ad Avigliana, e così via, mi scrisse un telegramma, dicendo, Paolo, complimenti, eccetera, eccetera, ti devo dire una cosa, nella cucina del Combal, chiaramente lo scrisse con maggiore sintesi, c'è un cartello con sopra scritto, non bastano avere idee, bisogna anche realizzarle, e ho detto, cazzo, ha ragione, perché non è vero che sai l'idee, di realizzarle, insomma così, e queste sono state le due cose migliori, cioè più in fuori, sì, poi dopo è chiaro, Montanelli che mi ha assunto al giornale, tante cose, insomma così, però diciamo, questa cosa di Nevesport, mi aprì lo scrivere di giornale, che non mi sono mai laureato, di scrivere, Scabin, quando abbiamo avuto l'idea di, quando ho avuto l'idea di Identità Golose, e così, questo insomma, per certi ragazzi mia madre ecco anche. E invece appunto a questo punto è un po' accennato un po' come, come appunto queste idee, e come è nata, è diciamo, Identità Golose, è nata da una raggiatura, se tu vuoi vedere tutti i giornalisti che hanno scritto, uno mi chiede come è fatto di diventare così influente, si vede che ho detto poche cazzate, e guarda, Gualtiero Marchesi, quando gli chiese qual è il suo allievo più bravo di tutti, disse Paolo Lopriore, che adesso è da piano gentile, il portico, e ha detto, perché lui? Eh, lui è quello che sbaglia di più. E l'altro gli ha detto, ma scusa, se è quello che sbaglia di più, non può essere il più bravo. Ma no, lui è il più bravo, per cui, oh, ciao Francesca, Santa Maria di Leo, che non so quando tornerò in Salento, perché è una casa laggiù. E allora dice, no, perché siccome lui è il più bravo di tutti, osa, oltre i limiti, di quasi tutti gli altri cuochi. E osando, oltre i limiti, è ovvio che si espone a degli errori. però, ehm, se non osasse, non saprebbe mai i suoi limiti, non porterebbe più lontano i confini dell'alta cucina. Eh, questo è un po' un paradosso, però, eh, però è vero, insomma. E allora, questo per dire che, il, le cose sono andate, quando tu inizi, fai un primo passo, il passo va bene, ne fai un secondo, ne fai un terzo. Io, stando al giornale, avevo, ehm, ehm, voglia di scrivere di cucina, prima o poi. Il giornale aveva un grande vantaggio, che eravamo relativamente pochi come giornalisti, un terzo rispetto a Repubblica al Corriere. Ovviamente, rispetto al Corriere all'inizio, Repubblica più avanti, perché nacque prima il giornale, e poi, eh, qual è l'aspetto più complicato e spinoso della mia professione? Che devi anche mangiare male, bere male, e non sempre puoi dirlo. E questa è la cosa più brutta. E, e niente, invece, siccome eravamo relativamente pochi, tu potevi essere, sì, assegnato allo sport, scusate, o altri settori, però se avevi un'idea, andavi in direzione, dicevi, ma se io vorrei fare, e ti dico, ma sì, va bene, la cosa va bene, parla col capo di quella sezione lì, Lui, diciamo, quindi. Cioè, per dirti, quando il Minam vinse la Coppa dei Campioni, credo l'A 88, e andai a seguire lo Steaua, con cui giocavano in finale, a Barcellona, e allora mi chiedo, ma visto che vai a Bucharest, per forza, Steaua di Bucharest, non riesci a fare un pezzo sulla situazione, c'è ancora Ciausescu, e così. Io ho detto, tanto, qua a Bucharest si mangia male, per cui è inutile cercare ristoranti, è anche divertente tenere dei contatti, per cui chiesi all'ambasciatore italiano di conoscere qualcuno, per cui feci una doppia pagina sul giornale, su questo, oppure Coppa America, che ho citato prima di Vela, a Pert, Pert è molto particolare, l'Australia dell'Ovest, guarda il Sudafrica, e c'è anche un soborgo di Pert, si chiama Como, come la città, qua, la Cusa, sopra Milano, insomma così, entrai in un negozio di, da uno che affittava case, e vedi un quadro, ho detto, scusa, ma tu hai questo quadro qua, era un italiano questo ragazzo, fa, sì perché, perché ne ho due anch'io a casa mia, e lì scoprimmo tante cose, in comune, la vita l'aveva portato lì, ma aveva avuto dei problemi con la giustizia italiana, poi l'avevo scoperto, però facendo così, quando citai questo qui, uno che lavorava al giornale di Roma, mi dice, ma tu hai conosciuto, il tale del tale, dico, ma sì perché, è perché l'ho saputo, e allora feci delle, anche lì, delle pagine, per raccontare gli italiani, che la vita, gli aveva portati lì, e ti assicuro, che se uno finisce aperto, ma non quella di adesso, quella di 40 anni fa, aveva dei bei motivi, per scappare dall'Italia. Immagino, immagino, però quello che mi chiedo, è diciamo, questo insomma, è la passione questo per dire, insomma così, per arrivare alla domanda che hai fatto, se non vi parlo, qual è stata un po' l'esigenza, che avete sentito, che io avrei sempre voluto scrivere di cucina, per cui, nei giornali d'estate, l'economia non c'è, la politica va in vacanze, e così via, e l'ulio-agosto, scrivi di cose più frivole, racconti, la gente sotto l'ombrellone, il calcio mercato, tante palle, che si scrivono, però la gente li legge, perché vuol sognare, ed estate, vincono tutti lo scudetto, e allora così andavo a proporre, ma io ho visto che seguo, questo e quest'altro, perché non vi faccio dei racconti, dove un itinerario goloso in Versiglia, uno in Inghilterra, l'anno che c'era una certa regata, e così via, e da quello pian piano, sviluppai sempre di più le cose, magari un incontro fortunato, e tutto questo fino, e questo è divertente, l'ho scritto anche in un racconto, dovevo seguire la Sampdoria, che faceva una semifinale, secondo me, col Monaco di Monte Carlo, perché poi vinse la Coppa delle Cope, la Sampdoria, però siccome la squadra andava solo la sera della vigilia a Monte Carlo, tutti noi giornalisti, eccetto quelli proprio del giornale di Genova, andammo a Genova, lavorammo lì, si stette a Genova a dormire, e così via, e il giorno dopo mi fermai i balzi rossi di Ventimiglia, che purtroppo ha chiuso ultimamente, che allora aveva due stelle Michelin, e il proprietario era sempre lì, attaccato a uno che si era seduto, e mi dava le spalle sul tavolo di fronte, quando finalmente questo si alza e va in bagno, io chiamo il cammino e dico, scusi, ma chi è quello lì fa? Eh, guardi, quello lì deve essere un critico, no, no, quello deve essere della Michelin, perché non ho mai visto il proprietario così attento su queste cose, allora io presi, andai in bagno, ciao Roberto, ci preso, ti lo dissi menologo, e niente, insomma, andai in bagno, mi ficcai davanti al bagno degli uomini, chissà cosa ha pensato quando ha aperto, e quando apri la porta, vide me, e allora gli chiesi, a lei lavora veramente la Michelin, era il responsabile della Guida Rossa, è nata una bellissima amicizia, che dura tutt'ora, insomma, e questo bisogna fare, cioè se tu stai ad aspettare, che le robe ti cadano dal cielo, mori sfigato, come la vita che hai fatto, sostanzialmente, così, per cui insomma, l'identità crebbe così, capito, conosciuto quella della Michelin, quella della Michelin, devo mettere sotto carico il telefono, quello della Michelin, scusate un secondo, quello della Michelin, mi ritrola la presentazione, tantissime cose, e quando inizi a fare una cosa, e la fai bene, tutto sommato, ti viene voglia di farla ancora meglio. Ok, e inizialmente come ha selezionato, diciamo, i primi chef che partecipavano, i primi artigiani, i primi produttori? No, Ma intendi come rubrico, come identità? Come identità. Eh, guarda, lì, allora, lì successe questo, che i congressi, li hanno inventato gli spagnoli, un signore che si chiama, ehm, Mazzara del Vallo, Madonna, se vorrei andare, hanno un grandissimo problema a Mazzara, perché hanno bloccato la pesca, hanno i pescherecci pieni di, di gambi rossi, che non possono portare a terra, e così, va bene, e, no, è successo, insomma, questo, García Santos, che adesso è ormai in pensione, e così via, aveva capito, prima di tutti gli altri, pubblicava una guida che si chiamava, il mio ordo alla gastronomia, e io l'avevo intercettato a un mondiale di sci, che si fece in Sierra Nevada, alle spalle di Granada, e allora le avevo già comprate tutto, per cui a un certo punto alla seconda editore, lui capì nel 98, che non poteva premiare certi piatti, e dire che certi cuochi erano i più bravi spagnoli, perché facevano una cucina totalmente diversa, Adrià, Andoni, questi qua, per cui andavano a spiegarti, un po' come cent'anni prima, 80 anni prima, quando Picasso e gli altri, facevano le donne con tre nasi, otto occhi, quattro fette, era difficile dire, questa è una bella donna, e uno ti dice, ma bella donna, insomma, e così, quale piatto mi ha assaggiato, vi ha colpito maggiormente, eh madonna, Cyber Egg di Davide Scabin, ecco, risposta a questa domanda, e, il, niente, per cui lui, fece diventare nel 98, la presentazione della guida, il primo congresso, cioè chiesa a due, tre cuochi, di spiegare i loro piatti, la seconda, il, il secondo anno, c'erano già duemila persone, e lì è decollato, e questo, il signore, ce l'aveva, cioè, non ce l'aveva personalmente, però nel mondo, si era totalmente stufati tutti, eh, scusate, eh, della grandea francese, cioè, se tu dovevi fare, volevi fare alta cuscita, altri, eh, altri, eh, come dire, scusa, eh, stili? No, no, scusa, questo volevo dire, scusa, se tu vuoi fare alta cucina, dovevi fare cucina francese, in un certo modo, e così via, però il mondo, sarà poi totalmente stufato, di pagare, il sommelier, vestito da pinguino, con, il portacenere, il tante venere, le cose, tutte quelle cose lì, e aveva voglia di libertà, e lui lo capì, e liberò una forza incredibile, siccome la Spagna da sola, non aveva una forza, eh, fortissima, così, chi potrebbe essere l'alleato della Spagna, così l'Italia, perché è l'alta cucina, cioè, quando si parla dei superstellati tedeschi, sono quasi tutti, c'è un spagnolo, di radici spagnoli, sono francesi, in Inghilterra sono francesi, a lungo sono stati solo francesi, e così via, Per cui lui inventava, invitava, cuochi italiani, per cui gli Alaimo, Bottura, Cracco, Gennaro Esposito, a tenere le elezioni a San Sebastien, da una parte era un onore incredibile, però dall'altra, cos'era il problema? Che questi, che il mondo, su chiave idee, i nostri cuochi, che non ricevevano nulla in cambio, siccome non c'era un giornalismo, fortissimo in Italia, cioè c'era, ma è considerato sempre un giornalismo, il serviebicolo della gola, cioè grandi giornali e così via, per cui non c'era un eco di Scabin, piuttosto che di Bottura, con Sebastian, per cui c'era questa dispersione, di talento, di ricette, di idee, per cui, quando poi nel 2003, Capelle, che ho, Madri Fusione, che invece c'è ancora, per il mio ordine, dato gastronomica, andai con Craco a questa edizione del 2004, che è stata la seconda, e mi arrabbiai, ho detto con Carlo, dico scusa, a parte quegli italiani che vengono qua a copiare, e copiare è la cosa più brutta che si possa fare, uno ruba il mestiere, impara, diciamo, segue quello che può essere un suo maestro, e così via, però di base devi seguire le tue idee, invece quelli erano lì solo per adeguare le presentazioni, e qualche cottura, della loro cucina, senza aver capito perché gli spagnoli facessero così, e in più c'era il problema, della dispersione delle idee, per cui, tornando nel gennaio del 2004, a Milano, con Craco ho detto, adesso organizzo io un congresso di cucina, per dare spazio, insomma, a tutto questo, e poi gli italiani, e invitare anche gli stranieri, e così andai da, da Adrià, e ho detto, io voglio fare un congresso, e così mi ha detto, Paolino, io vengo, mi dici quando, e invece io ho detto, no, tu mi dici quando sei libero, e viene, e in quel giorno, e feci, ho detto, io sono libero il 23, 24 gennaio dell'anno prossimo, perfetto, e lì mi sono messo, e poi gli italiani, è stato anche facilissimo invitarli, e mi ricordo, l'anno scorso è venuto anche Ducasse, mi ricordo una sua conferenza molto, sì, ma, come serve a dire, sì, sì, in pratica, l'unico che mi dispiace, che non è venuto veramente, è Robuchon, solo che è morto l'anno che deve venire, che miseria, era venuto a Milano e tutto, ma la salute di lui lo stava già, ma per far diventare i famosi di chef, mi chiedono, ci chiedono per far conoscere la loro filosofia, la prima edizione fu gennaio 2005, di Identità, boh, si scrive di loro, si, gli si dà spazio per, si dà spazio, per esprimere, sì, una volta, un giornalista di Corriere mi ha detto, ma perché io devo ascoltare i tuoi consigli gastronomici, ho detto, guarda, è semplice, tu, leggi un giorno un mio articolo, e te lo tieni lì, perché magari scrivo in un ristorante in Bersiglia, e tu fai vacanza in Bersiglia, quando ci torni, dici, ah, Paolo Marchi è scritto di questo tal posto, L'Occa Bianca di Viareggio, non c'è più da una vita, è tanto per dire, tu ci vai, non ci eri mai andato, perché ti sembrava, non so, per qualche motivo, non c'è stato un motivo per andarci, ci vai, ti piace, vedi che quello che ho scritto corrisponde alla verità, e dici, beh, guarda, non è proprio così, cretino, il Marchi, poi, una seconda volta, leggi un'altra cosa che corrisponde, e poi, io l'ho conquistato, ti fidi di me, cioè, per dirti, la guida alle pizzerie del Gambolo Rosso, io, pensavo fosse, un po' così, come tutte queste qua, tutte le guide, non riuscisse ad andare ovunque, fuori dalle grandi città, e io, giù all'Euca, c'è un posto di un paesino, che ha dentro un pizzaiolo, che adesso, antichi sapori, adesso scusate, Mijan, il paese, mi pare, ma non dove andare a cercare le cose, che è totalmente improbabile, ha un menu di proposte sconfinato, e anche un numero incredibile di impasti, perché la moglie ha dei problemi con le farine, con tante cose, per cui si è messo a studiare impasti, che fossero mangiabili e digeribili da sua moglie, e così pian piano è sparsa la parola, però se non te lo dicono, non ci vai, non vai in quel paese, perché non ha nulla di speciale, e non vai da lui, poi, e così, questa scheda del Gambolo era perfetta, io ho detto, va bene, se scrivono bene di un posto, sperduto nel Salento più profondo, vuol dire, a maggior ragione, scriveranno bene in Toscana, Napoli, Roma, e così, e le persone le conquisti così, ecco, pensando a una domanda che ci hanno fatto. Volevo sapere, no, perché ho visto, come le dicevo, che in questo periodo ha fatto molte interviste, ha sentito anche molte personalità diverse, volevo sapere se aveva visto qualche iniziativa particolare, interessante, anche per superare il momento, per esempio ho visto, parlavo con Raffa Laimo, di loro che stanno, che stanno praticamente facendo a domicilio, con ingredienti, Massimiliano Cucina, sì, mi sembra un progetto molto interessante, molto costruttivo, diciamo, per questo periodo difficile. No, e più che altro ti tiene occupato, lo sta facendo anche il Cerea, oggi alle 4 parlavo con Kiko, l'ho chiamato al 1 e mezzo, e stava cucinando per i delivery, Cracco, eccetera, eccetera, al di là dell'ospedale in fiera, però sono pagliativi, il problema è che abbiamo citato, ma vale un ristorante, che sono delle portaere, degli incrociatori pazzeschi, E ridurli al lavoro, che potrebbe fare una lancia, quando porta qualcuno a terra dalla nave principale, è assolutamente sproporzionato, lo fai per mantenerti un po' vivo, per tenere i contatti con i tuoi clienti, il grosso problema, è che vanno avanti le spese, vanno tutto, insomma, noi adesso con gli ambasciatori del gusto, che è questa associazione, che riunisce cuochi, pizzaioli, pasticceri, esatto, anche quello, infatti poi volevo andare un attimo a approfondire, che... No, niente, stiamo preparando un documento, oggi, quando saluterò voi, devo parlare con loro, di questo, da trasmettere al governo, e così, sulle cose principali, da fare per la categoria, dopo sarà diverso, il vero problema non sarà riaprire, quando si dice a maggio, più o meno, riapriremo pian piano l'Italia, di sicuro le pizzerie di asporto, le gialletterie, saranno prese d'assalto, diciamo comunque, d'assalto, fra virgolette, estremamente, stiamo iniziati, così, il grosso problema sarà convincere la gente, a tornare in una scatola chiusa, in un ristorante, e bisognerà, no, ma noi stessi abbiamo questo ristorante in via Romagnosi, per cui non si tratterà più, come prima della chiusura, di dire, vabbè, allarghiamo un pochino i posti, un tavolo sì, un tavolo no, tu non puoi tenere un tavolo, o se è un ristorante, per dirti, con venti tavoli, e occuparne solo dieci, e lasciarne solo dieci, e sistemare in certo modo lo spazio. Ieri ho intervistato Paolo Airaudo, che è unito all'argentino, a San Sebasti, una persona, una delle più belle teste, che esiste nella ristorazione, e lui, scusa, avrebbe dovuto fare, a identità golose all'inizio marzo, una lezione sulla sostenibilità, e il senso di responsabilità, economicamente, come stare in piedi, senza fare il nero, senza pagare i dipendenti, eccetera, eccetera, lui adesso si è trasferito, dalla vecchia sede alla nuova, la nuova è stata aperta, quattro giorni, e poi l'hanno chiuso per quarantena, però dice, io ho fatto un banco, di fronte alla cucina, per far sedere, dodici persone, più, tre tavoli, dove si possono sedere, dai due, alle otto persone, per cui, diciamo, otto, sedici, ventiquattro, più, più dodici, trentasei posti, prima nel vecchio ristorante, ne faceva venti circa, ho trotturato tutto, per passare da venti a trentasei copertici, ma io quando riaprirò, non posso mettere dodici persone al banco, non posso quei tavoli occuparli, cioè da otto diventano quattro, per cui saranno, quattro, otto, dodici, il tavolo da dodici, dintasei, torno a diciotto, cioè io, dice ho fatto un investimento importantissimo, e mi trovo meno coperti, per via del coronavirus, di quelli che avevo nella vecchia, nella vecchia sede, per cui, cosa faccio? Nonostante noi siamo latini, e non ce ne frega nulla dei, dei turni, mentre a Londra, in America, si dà per scontato, e tu vado in certi orari, in certi ristoranti, e mangi a tutte le ore del giorno, io, dovremmo capire, che tu potrai andare a cena, in un ristorante, in una certa fascia, ovviamente, o alle sette, alle nove ti alzi, e alle nove vengono altri, bisognerà fare così, cioè, non è solo, mangeremo un po' più tradizionale, un po' più creativo, un po' di più, un po' di meno, un po' più... Un fatto organizzativo, diciamo, organizzativo, gestionale, e tutto, perché, non solo lui, tanti, hanno paura, a che prezzi mettiamo, c'è, ci sono, in Italia, ci sono 370, circa, di stellati, molti di questi, sono in alberghi, così, e allora, no, non sono restrizioni, one take in, da mettere di tempo, uno sa che, mangia in due ore, un menù, per cui dice, vado al ristorante, il ristorante ti dice, io ti... Ci sarà quella fascia oraria, per... scegli, scegli in che fascia andare, cioè, noi italiani siamo abituati, vai al ristorante alle 8, ci stai fino a lunedì notte, se hai voglia di starci, e no, non sarà così, ecco, come dice, caffè vero, iniziare il servizio prima, e fare più turni, se vogliamo un certo servizio, se no, andremo a mangiare, sui navigli, una porcheria, e... a spiegare il tuo aroma, insomma, e... è un po' tutto questo, il grosso problema, saranno appunto, i ristoranti, negli alberghi, perché gli alberghi, quando torneranno gli stranieri? Ci sono, adesso non facciamo nomi, anche che comunque, l'estero, eppure magari, se vogliamo, un po' indietro, rispetto a noi, in questa situazione, cioè, almeno sembrerebbe. Sì, ma non è solo quello, cioè, ci sono dei ristoranti, degli alberghi, sono di proprietà di russi, cioè, si sa, insomma, questi russi, quando arriveranno in Italia? Certi prezzi, che gli stranieri, sono disposti a pagare, per stare nel lusso, di certi alberghi, sul lago di Garda, gli italiani, non possono pagarli, o in Toscana, e così, in Italia, non li puoi pagare, gli italiani, non possono pagarli, e allora, cosa fanno questi? Vendono, un prodotto, che vale, che ha certi costi, a un costo inferiore, probabilmente, certi alberghi, di lusso, faranno, un servizio, un po' più ridotto, e questo, dice, lui sta a Fort Village, e Fort Village, è la stessa cosa, mi pare sia russa, la proprietà, erano abituati, Gordon Ramsay, Craco, tutti stellati a cucinare lì, fusti e dolci, questo benessere, non ci sarà più, ci sarà un dimagrimento, cioè, la fuffa, l'inutile, diciamo così, il superfluo, verrà eliminato, al di là di quello che dice Oscar, si, wilde, nulla è più indispensabile del superfluo, dell'inutile, e, Salvatore Magli, e come, se ci vedremo a Pesici, e dove la casa giù, è niente, questo sarà il grosso problema, purtroppo lo Stato non aiuta la ristorazione italiana, che più che altro molto spesso è anche fatta, diciamo, al di là degli stellati, anche di piccoli imprenditori, con magari diversi dipendenti, che ora si ritrovano, diciamo, completamente abbandonati un po'. Eh sì, sai il, eh sì, purtroppo sì, ma è che, abbiamo anche una classe politica, mediocre, per cui, in perenne, eh, bla bla bla, urla, schiamazzi, e così via, eh, difficile adesso, in questo momento, in questo momento, diciamo, pretendere lucidità da dei mediocre, insomma, facità, insomma, eh, vedo, Nieve e Speranza, eh, il doppio turno lo facevano già prima del coronavirus, sì, qualcuno sì, ma il problema è, io mi ricordo, cioè, se tu prenoti da blu, mental al mandarin di, che notavi, no, di, allora, ti arrivava proprio, e dice, tu hai il tavolo per due ore, dalle 7.45, alle 9.45, cioè, proprio, il reggimentato, non, non, non sarà così in Italia, ma tu, dovrai adattarti a queste cose, e Franco Pepe, che è il più grande pizzaiolo al mondo, ha questa famosa coda, a Cagliazzo, che finisce chissà dove, lui adesso si è messo d'accordo, cioè, si era già messo d'accordo, prima della quarantena, perché non era stupido, e capiva che non si potevano fare gli assembramenti, per cui, prendeva meno prenotazioni, quando arrivava uno da lui, gli dava il buono, per dire, tu hai prenotato da me, poi tornava per i suoi persi, e andava nella piazzetta, che c'è dietro di lui, insomma, un po' più in alto, dove c'è un bar simpatico, e questo bar gli offriva un cocktail, e qualcosa, per cui, questo è un prezzo di regalo, insomma, così, però si faceva così promozione, e poi questo sapeva, che dopo un certo momento, poteva tornare al ristorante, per cui, questa gente, poi, la vera coda, la faceva in una piazzetta deliziosa, stando seduto un po' lontani, e sì, devi far così, e tu nei costi, metterai anche, siccome tanto viaggeremo meno, quello che tu, uno risparmierà in aerei, per andare a Londra, o a Dubai, o così via, e dovrà, spendere in queste idee qua, in queste cose, e in campagna. La saluta Nico Romito. Oh sì, ciao Nico, devo risentirlo poi. Un altro punto, che volevo un po' parlare con lei, di cui volevo parlare un po' con lei, era un po' la guida Michelin, perché per esempio ho letto, l'altro giorno, un suo articolo, sugli chef francesi, e di come un po', diciamo, ci fosse questa, quasi un po', maggiore cautela, di riconoscimento, di chef italiani, rispetto a quelli francesi, che magari più facilmente... Quello è un dato di fatto, cioè, la Michelin è francese, e quando noi italiani ci lamentiamo che non ci danno abbastanza stelle, comunque siamo il secondo paese più stellato, e ogni anno ci premia sempre di più ed è difficilissimo che boccino, in genere, le stelle perse perché hanno chiuso, e così, e noi pretendiamo che la Michelin faccia quello che noi non siamo stati capaci di fare, cioè, che era una guida, che andasse nel mondo, e loro fanno i loro interessi economici, di marketing, portano avanti con lucidità un certo schema di ristorazione, e loro fanno i loro interessi, adesso mi ripeto, insomma, no? Il vero problema è che noi italiani dovremmo far tesoro di queste elezioni, e siamo l'unico popolo che non lo capisce, cioè, adesso lasciamo stare il coronavirus, no? Ma in Australia, i paesi scandinavi, il Perù, cioè, tutti hanno un loro standard di decaloghi, sistemi, propaganda, la Spagna, e così, solo noi italiani andiamo alla rinfusa, sembra un'armata brancaleone, un pochino, insomma, no? Per cui, non abbiamo una guida che sia capibile dagli stranieri, perché, gli stranieri vengono, la Michelin ha avuto l'idea delle stelle, dei 1, 2, 3 maccheroni, è facilissimo da capire, no? E quella è un'idea bellissima. In più, noi italiani, perché siamo individualisti, gelosi uno dell'altro, sempre pronti a farci male reciprocamente, invece, preoccuparci a far qualcosa di altrettanto forte, abbiamo fatto passare l'idea che il grande cuoco sia lo stellato. lo stellato fotografa solo un certo standard qualitativo e di lusso che non è il nostro, non è così. Per cui, quando uno cerca di definire, io una cosa che spero prima o poi si possa affrontare, cosa definisce la grandezza di un ristorante italiano. Al di là delle stelle, diciamo. Sì, al di là delle stelle, ci sono dei ristoranti, a me è marzapane, per dire a Roma, a me piace moltissimo, è così, non ha la stella. Paolo Lopiore, più bravo di tutti, non ha la stella. Non è detto, altri hanno la stella, io non ci vado da 30 anni perché non mi interessa niente. Anche per esempio anche il Noma che ne ha due, possiamo dire comunque un esempio di questo, diciamo. Infatti, ma infatti, il grosso problema sarà che secondo me le guide non usciranno nei tempi che abbiamo sempre, a cui siamo abituati, diciamo, fra ottobre e fine novembre, quei mesi lì di autunno, perché con tutto fermo non avranno mai, non avranno avuto tempo, scusate, dottor, ho una cosa sullo schermo, di andare nei ristoranti, per cui ci voleranno tutte quel nuovo anno. già ieri hanno rinviato al 2021 i 50 best, nonostante la classifica ci sia, hanno messo online una settimana a fare la classifica dell'Asia, boh, del Sud America non ho sentito nulla, quello che sarebbe il grande evento di 2020 nelle Fiandre si terrà ad Ambersa, si terrà l'anno prossimo sempre nel 2021. E anche la Michelin, un minuto adeguarsi, perché comunque l'assembramento di persone sarà sempre di eventi, queste cose qua saranno gli ultimi a riprendere forza, perché la gente avrà tanta diffidenza, stringersi le mani, insomma, queste state, se potremmo andare al mare a luglio-agosto, tu prenderesti il lettino accanto a un'altra famiglia, io la voglio a due metri, ti tuffi da una passerella dove la gente si aspetta ad entrare in acqua e poi aver contatto di pelle, non lo so, io no, cioè, per dirti, sicuro che non sono un igienista, e così il ristorante bisognerà adeguarsi. Qua chiedono che potrebbe essere interessante, la guida un po' diciamo dura, però la guida non lascia libera espressione di creatività e l'arte della gastronomia. Oh, perché? No, non lo so, cioè, l'importante è, io dicevo sempre, se Claudia Schiffer non vuole fare l'amore con me perché sono grasso e non può farlo con un ciccione da 200 kg dopo, allora vuol dire che ce l'aveva con me, cioè nel senso che se tu metti giù dei parametri per giudicare dei ristoranti e a quel punto quei parametri devono valere sempre, cioè non è che tu metti i parametri e poi un amico del giaguaro e lo metti dentro anche se... Esatto, è quello secondo me. Anche un po' per il 50 best vale un po' anche lo stesso discorso se vogliamo. Sì, sì, 50 best e un po' tutte queste cose qua, ecco, per dire, quello è un mondo che farà una fatica bestiale a risollevarsi, già adesso cominciano a dire dovremmo giudicare e supportare la riapertura dei ristoranti eccetera eccetera. Però hanno... Io sono frequentatore assiduo e dei 50 best è un mondo che poi è lo stesso di identità, tantissimo. Però certi eccessi per cui... Per me gli influencer spariranno, non hanno più ragione di esistere e mantenuti dalle agenzie di PR e così via perché non si erano abbastanza soldi per foraggiare a tutto questo mondo. Però magari mi sbaglio ma lo intendo così. Invece se... Volevo sapere se magari le viene in mente qualcuno, un qualche chef o anche un qualche produttore che magari anche tramite identità ancora non è molto conosciuto e pensa che magari invece nei prossimi anni possa avere successo o una qualche promessa diciamo. No, 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 dei suoi cose per essere ci sono. È molto più difficile distinguere oggi, cioè nel senso quando io ho 20 anni, 25, 30 ho iniziato tutto questo, insomma, il percorso, i miei interessi e così via. Era molto semplice distinguere i ristoranti importanti e anche un giovane e così via perché l'offerta era minima o comunque era abbastanza ristretta e la Mishlein piuttosto che la Zagat quando andavi a New York ti dava una fotografia abbastanza chiara, cioè le prendevi e quelli erano i posti che andavano per la maggiore però non si poneva il problema della sostenibilità del mondo vegetariano, la cucina etnica o le cucine del mondo e così e poi non sapevi niente dei cuochi o ci andavi a mangiare o dove non esisteva foto dei piatti descrizioni per cui era una cosa veramente in un mondo economico piccolissimo adesso che ci sono i social le foto e il digitale sarà di aiuto all'astronomia boh non lo so di sicuro il digitale appunto è un po' quello che sto dicendo adesso ha permesso a tutti di fare il fotografo e il giornalista scrivendo due righe scattando un click su Instagram ma il problema è tutto il lavoro a monte di conoscenza tu hai fatto Pollenzo e di sicuro ne sai più di mille influencer messe insieme e se li spremi non ti esce la metà di quello che hai in testa 21 e così e questo è il grosso problema per cui tu vedi tantissime cose copiate ma la gente non sa che sono copiate due anni fa andrei a fare di gennaio una conferenza a Ljubljana capitale della Slovenia e poi mi portarono in un posto molto simpatico dove la cosa per entrare ha messo lì le verdure essiccate di Carlo Cracco che da Carlo Cracco per 15 anni sono state il suo biglietto da visita ma nessuno lì lo sapeva per cui tu ti dirai che bello simpatico la carota tagliata sottilissima essiccata e così via e colorata cioè se tu oppure a una edizione del mio da gastronomia c'era sempre un concorso sull'olio d'oliva usato come ingrediente e un cuoco nel lago di Siero di Brescia purtroppo è morto poche settimane fa presentò il manzo all'olio e allora quando uscì questo piatto la giornalista che non lo conosceva ha detto ah che bella creatività italiana no quello è un piatto tradizionale di rovato dove c'è un grandissimo mercato dei bovini e hanno fanno questo diciamo arrosto stracotto in un passato di verdure no e sommerso nell'olio e per cui se tu non sai non conosci quella tradizione sì Vittorio e Fusari Vittorio Fusari è lo scomparso eccezionale e la passi per creatività no per cui adesso comunque diciamo adesso a me piacciono moltissimo i ragazzi di Piazzetta Milù Cristian Torsiello ci sono il problema che si annegano e si ritrovano in un mare di informazioni di notizie così che rende più difficile diciamo adesso è più facile mettersi in mostra ma è più difficile mettere in mostra il proprio talento perché sei circondato è come lo sci insomma è più facile sciare mediamente bene adesso il problema è fare un secondo in meno e vincere la gara certo 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 e invece chiedono il mondo dei vini naturali negli stellati come lo vede? a me piacciono da pazzi e i francesi li hanno ufficializzati pochi giorni fa e io credo che negli stellati il grosso problema dei vini naturali è che arrivano da cantine piccoline che non possono garantire magari certo consegne eccetera eccetera ma non possono garantire nemmeno diciamo quel supporto economico cioè io so per certo di alcune cantine che pur di star nelle carte di certi super chef pagano per essere nelle carte poi dopo in cantina ci sono sei bottiglie pertanto nessuno li berrà mai a questa cantina dice il mio spumante il mio franciacorte il mio barolo non so che sta nella carta di eccetera eccetera e invece i vini naturali questa forza economica non ce l'hanno per cui devi proprio trovare la giusta dimensione diciamo della carta il mio appassionato che stabilisce dei contratti dei contatti si approvvigiona li consiglia c'è da dire che non c'è molta costanza di rendimento nei naturali per cui c'è tanta buona volontà poi quando tu apri la bottiglia è più difficile è un po' così cioè per dire io non gli orange wine a me non piacciono però non li capisco e la prima volta che ne ho bevuto una una sommelier bellissima simpaticissima giù vicino a Lecce e così però anche lei su una cucina assolutamente delle zie mi ha mi offrì questo vino che non c'entrava niente con tutto per cui già non mi piaceva in più mi è piaciuto ancora meno cioè bisogna anche avere una certa intelligenza sensibilità di proporre questi vini è l'occasione giusta è al cliente giusto sì un po' quello perché se no certo sicuramente c'è bisogno di una buona introduzione certo è un buon contesto se no siccome sono poco conosciuti è anche difficile che uno te li ordini cioè è tutto un po' un gatto che si morde le cose beh poi sì devo salutarvi però scusami perfetto no certo no no allora magari proseguiamo con un'ultima domanda e ci salutiamo e diciamo allora restando sul mondo del vino considerando comunque che abbiamo visto che la produzione italiana diciamo di vino è alta ha superato anche quella francese però facciamo ancora molta fatica a valorizzarli infatti se poi vediamo gli introiti provenienti dal vino sono totalmente diversi quelli italiani rispetto a quelli francesi secondo lei questo gap a cosa è dovuto e come diciamo si potrebbe sanare col tempo chiaramente è dovuto al fatto che i francesi hanno iniziato 150 anni prima di noi o quasi insomma per cui loro hanno hanno avuto una grandissima fortuna e che erano i commercianti i produttori per l'Inghilterra no per cui eccetera eccetera tutti i vini andavano lì e andavano sì e di champagne andavano ai russi eccetera eccetera per cui strategicamente geograficamente insomma la Francia era avvantaggiata dal fatto di poter navigare sull'oceano nella manica eccetera eccetera e i commerci che potevano avere con l'est noi proiettati in mezzo al Mediterraneo è un'altra cosa insomma questa così il problema nostro è che abbiamo iniziato dopo e siamo ancora temo insomma a parlare molto di territori no per cui cioè il vino lombardo mentre c'è il vino toscano il vino piemontese così in Lombardia c'è la l'Utrepo c'è la Franciacorta c'è la Valtellina ecco insomma anche già quello è un limite no e poi ci dividiamo insomma quando un frangeli ti parla di un crew e tu anche se non sai cosa vuol dire pensi all'eccellenza noi parliamo di sottogruppi se va il sottosviluppato no cioè proprio l'impatto certo certo beh quello è anche molto dovuto alla storia comunque all'impatto che c'è dietro il nome no un po' tutto questo insomma non riusciamo a non siamo ancora riusciti diciamo a dare un valore maggiore ai nostri vini no per cui è vero che un dal forno alcuni di questi possono raggiungere cifre pazzesche ma la media il valore medio della nostra bottiglia è inferiore a quella francese perché comunque i francesi riescono a far desiderare i loro i loro prodotti no cioè il pollo di bress è un ottimo prodotto così però l'ha fatto te lo vende in un sacchetto con tutte le cose pinzate sopra tu prendi un grande crew francese c'è scritto premier crew in bottiglia danno lo chateau danno le cantine cioè ti scrivono 4-5 volte quella roba non ti dicono che vino uva c'è dentro adesso generalizzi intendo certo certo però loro ti dicono questa è la Francia e goditela mentre noi italiani ti facciamo le doc che dice meno immediate forse meno immediate e poi frazionati per cui le regioni giustamente pompano il loro vino però poi alla fine quella gestione poi sempre cliente reale gli amici del governatore eccetera eccetera certo perfetto allora Paolo io ti ringrazio ti ringrazio molto grazie a tutti quelli che hanno partecipato che ci avete scritto veramente tantissimi e niente in bocca al lupo per tutto Paolo e ci sentiamo presto buona giornata buona giornata ciao buona giornata ciao ciao